Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Io cerco di dare alcuni flash, ho scelto questa forma di presentazione perché così riesco a gestire meglio, selezionando le cose che voglio raccontarvi in pochi minuti, cronometrate. È la sfida per noi che facciamo per mestiere. I'm not an engineer, but I'm not also an entrepreneur, I'm just an economist, as you say. Sono solo un economista, un economista agrario però, che nasce in un contesto rurale, vive in un contesto rurale e ha la fortuna di insegnare all'università una materia molto applicata. Io non credevo, ma ho avuto l'opportunità di essere preparato in confronti della presentazione di Gunther Pauli perché ho avuto modo di ascoltarlo, come vi dicevo, in uno speech su questi temi, per cui sapevo che mi dava un ottimo assist. Qui il convegno è molto industriale, la location è industriale, le relazioni successive sono molto industriali, ma lui ha dato una dimostrazione del match che c'è fra settore primario. Prima dell'industria normalmente c'è un'altra cosa che si chiama agricoltura. Io sono un economista agrario, presiedo la società italiana di economia agraria, ma mi occupo di sostenibilità. E noi questo lo vediamo come un problema, perché il settore agricolo, vi presento questa prima slide delle poche che sceglierò, poi la presentazione è completa, Mauro la lascio sul computer, però faccio una selezione di poche slide, non ho le belle foto di Gunther, però ho qualche schema, questo è il nostro modo di lavorare. Che cos'è questo? Questo è lo schema di un progetto che si chiama The Economics of Ecosystems and Biodiversity, è un progetto di economia che cerca di valutare, lui ha usato il concetto di valore, lo gioco anch'io, valori senza prezzo, questa è un'espressione che io uso spesso, perché io mi occupo di valori senza prezzo. L'agricoltura nella sua multifunzionalità, nel suo inserimento nella catena di produzione del valore, food value chain, produce valori senza prezzo il più delle volte, sia in negativo sono gli impatti, ma anche in positivo. E allora questo è il primo elemento che volevo segnalarvi, parlo di agricoltura con la consapevolezza che è una componente indispensabile, ma nei due sensi di una catena che è anche industriale, che è anche di distribuzione, ma che soprattutto io poi scelgo questo a questo punto. Sono un economista che si occupa anche di consumi, perché credo sia già venuto fuori con chiarezza, che la responsabilità è condivisa se le cose non vanno bene. E in questo contesto di imprenditori anche, credo la cosa sia ben chiara, che noi consumatori scarichiamo sugli altri, tipicamente i produttori, dall'agricoltura in su, le responsabilità, è un modo falso e scorretto di vedere le cose. Perché la produzione che lui fa, che molti fanno, c'è solo se c'è una domanda, se c'è qualcuno che ha una willingness to pay, una disponibilità a pagare, a comprare. Voi se siete molti anche imprenditori, lo so, industriali, fate una produzione, forse anche sì, c'è anche quella componente, ma non perché vi divertite a riempire i vostri magazzini, ma perché avete qualcuno che acquista il vostro prodotto. Allora, anche nella catena del cibo c'è questa grande responsabilità. Oggi l'economia agraria italiana, i dati ci dicono, ha elementi positivi, si è detto che ha dimostrato in questo periodo di crisi economica generalizzata di essere ancora una volta un settore buffer, cioè che tiene un po' il colpo. Ma ha anche le sue grosse difficoltà e pienamente in una necessità di ridisegno della sua strategia. in senso di circolarità, ma ho notato, e fra l'altro questo è anche il titolo del capitolo di Katia, come la chiama lui, all'interno di un libro che riguarda l'economia circolare del cibo, edito in Italia, lo mostro subito, questo libro qui a vostra sinistra, Circular Economy for Food. Ma dentro c'è bioeconomia, c'è sostenibilità. Non facciamo battaglie fra queste etichette, sono tutte nello stesso senso. O Green Economy, non so, quante ne volete che giochiamo? Quante volete? Ce ne sono tante. Blue Economy, molto importante. Allora, siamo all'interno di un settore che ha queste importanti caratteristiche e ci sono diversi lavori che si stanno concentrando, oltre che nelle nostre università regionali, ma a livello europeo e planetario, sulla questione della circolarità nel campo della produzione e del consumo di cibo, del value chain of food. Allora, questi sono per esempio dei modi con cui la cosa viene interpretata. Questo addirittura è una Ingredients for Circular Economy, proprio gli ingredienti per far dire sto parlando di cibo. Ma una cosa molto interessante che scelgo di mostrarvi e di ricordarvi perché uno dei nostri compiti, anche quello di dire guardate che ci sta lavorando, ci sta lavorando con attenzione, questa è, qui ci sono alcuni messaggi molto particolari. Uno è World Economic Forum. Si parla da alcuni anni, anzi da lì addirittura è partita una delle esperienze che attorno alla Circular Economy, la Ellen MacArthur Foundation, è uno dei centri, dei think tank, dove si parla di economia circolare in modo forte da diversi anni. Fra l'altro un aggancio a quello che ci presentava Paoli, Ellen MacArthur era una navigatrice, a proposito di ship, di navi, e poi proprio navigando ha avuto l'ispirazione, e così lei racconta, per fare un ragionamento sulla Circular Economy. A gennaio di quest'anno al World Economic Forum hanno presentato questo, vedete, Cities and Circular Economy for Food. Allora c'è un tema che mi pare molto interessante che emerge qui. In questo rapporto viene ricordato, forse per noi la cosa in questa regione rurale con città piccole, small cities in Friuli, Venezia e Giulia, abbiamo meno la percezione di questo, ma lì c'è scritto che al 2003, 2050, allarghiamoci un po', l'80% del cibro dovrà arrivare alle città. Allora, primo esempio di responsabilità della domanda e di riorganizzazione che loro vedono, per esempio, in un modello in cui le città hanno dei ruoli importanti, ma parlo di Pordenone, non occorre andare a città da milioni di abitanti. Per cui c'è un'interessante ricollocazione del circuito di produzione e di distribuzione del cibo che ha questa struttura. Un altro elemento di spunto in questa breve comunicazione che volevo farvi è un importante documento emerso recentemente che è il rapporto sulla economia circolare in Italia. E lì aggancio il tema con cui cerco di chiudere. Qual è? È un tema di cui e sono qui anche per dirvi di che cosa ci occupiamo nel nostro quotidiano di ricerca applicata a servizio della collettività. Siamo università pubbliche. Facciamo ricerca, facciamo insegnamento, ma abbiamo anche la cosiddetta terza missione, quella di essere qui oggi a parlare con voi. Cioè a cercare di capire se quello di cui noi ci occupiamo è utile per tutta la collettività dove siamo inseriti. Particolarmente nel caso del mio attoneo che 41 anni fa è stato scelto, è stato richiesto dai residenti di questa regione e anche di questa provincia. Allora, noi studiamo una parte interessante dell'economia circolare. Vado alla fine perché altri parleranno di altri segmenti. A me interessa fare un focus su questo fine. Che cos'è quella tabella? Sono delle esperienze di simbiosi industriali, quindi si parla di industria, però guardate la riga dove c'è scritto settore, quella che ho bordato in arancione. c'è scritto agroalimentare, agroindustriali, agroalimentare, agroalimentare, agroalimentare. È un elemento a cui guardare con attenzione. In che modo? All'interno di questo report ci sono anche le dieci proposte per l'economia circolare in Italia. Una, e ancora una volta i termini riappaiono, fra l'altro di bioeconomia in un progetto europeo si è parlato non più tardi di credo fossero dieci giorni fa, ero a Trieste a portare il saluto della mia università in un convegno dedicato alla bioeconomia in regione. La regione sta preparando una strategia sulla bioeconomia in Friuli, Venezia e Giulia accanto ad un lavoro che stiamo affiancando come università di disegno della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Sono momenti cruciali per poter inserire e mettere suggestioni come quelle che abbiamo ricevuto dal mondo anche economico produttivo e della ricerca. Promuovere la bioeconomia rigenerativa è uno dei temi che emergono qui la questione degli sprechi e del food waste dello spreco o comunque dei rifiuti derivanti dal ciclo economico dell'analisi del consumo di cibo. È un percorso molto importante che noi stiamo focalizzando a partire dall'agricoltura ma a noi un flash finale che volevo farvi è proprio quello dedicato alla parte alla responsabilità finale che poi chiude il cerchio in questa ipotesi di circolarità. Infatti nel rapporto voi trovate proprio una sezione dedicata agli scarti alimentari questo è un rapporto scaricabile online credo che molti di voi l'abbiano anche notato e in una tabella usa uno strano termine Reduce Reduce è un progetto a cui ho partecipato di studio finanziato dal Ministero per l'Ambiente sulla questione dello spreco in campo alimentare abbiamo focalizzato l'attenzione abbiamo posto attenzione su quelli che sono gli elementi per esempio del ciclo domestico dello spreco ci sono elementi cruciali su cui si può lavorare con intelligenza con la matematica con la ricerca per fare economia all'interno di questo che significa anche ripensare il processo di modo da non sprecare tutto quello che viene sprecato con dimensioni notevoli qui ci sono media spreco evitabile pro capita abbiamo studiato indagando cosa fanno osservando le famiglie abbiamo visto quali sono i motivi e quali sono le tipologie di spreco bisogna conoscere per agire questo l'ha dimostrato credo anche l'esperienza straordinaria che abbiamo appena ascoltato e siccome sapevo con cosa finiva ero preparato cioè i bambini ragazzi allora vi racconto per chiudere proprio un flash uno degli elementi che abbiamo studiato qui è cosa succede nelle mense scolastiche con i nostri bambini e con le nostre bambine che esperienza hanno di questa attività e allora abbiamo fatto uno studio dove alla fine per due settimane in scuole in una quarantina di scuole di diverse regioni italiane abbiamo chiesto ai bambini con i loro educatori di vedere di scaricare in appositi bidoni che cosa rimaneva nel loro piatto per capire qual era lo spreco ed educazione con azione che diventa elemento educativo informativo consapevolezza perché questi sono gli preditori di ricercatori di domani e quindi è bene lavorare in questo senso abbiamo proprio fatto uno studio su questo elemento per capire ma cosa può essere questa cosa la stiamo studiando anche nelle mense universitarie ma cosa può essere questa una piccola no è un problema educativo è un problema culturale ma non è una cultura di fare le cose bene questa è anche cultura imprenditoriale come diceva giustamente Paolo qui tu innesti principi di revisione delle attività culturali e così abbiamo studiato che cosa succede abbiamo scoperto che le mense del frio di Venezia Giulia rispetto a quelle del Lazio e dell'Emilia Romagna hanno un comportamento più virtuoso forse c'è questa ruralità che ci aiuta questo essere nord est che ci aiuta non lo so bisognerebbe approfondire si spreca meno questo è un piacere ma si spreca allora ecco perché poi andiamo anche a fare come oggi pomeriggio ci sarà un evento all'interno di Conoscenza in Feste in cui anche Paolo ha fatto degli interventi oggi pomeriggio dei colleghi racconteranno proprio lo spreco collettivo nella ristorazione con degli studi che abbiamo fatto nelle messe universitarie perché vi dico questo? perché se poi le università si occupano di questi temi la prima cosa che dovrebbero fare su cose concrete è farle oltre che studiarle il mio problema come delegato della Università per la Rete e dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile e che io faccio lezione di Economia dell'Ambiente e questo insegno a Economia ma anche un corso di Agraria in aule inefficienti dal punto di vista energetico in cui a febbraio gli studenti siccome hanno caldo per il riscaldamento aprono la finestra questo è inaccettabile dobbiamo dare l'esempio figuratevi se questo non può accadere già con i bambini delle elementari io ho chiuso così per questo mio intervento e vi ringrazio applausi grazie a tutti